Per quanto ve ne sto parlando, ormai penso lo abbia capito tutta Diktok. Domani festeggio il mio compleanno e non potevo di certo lasciare queste unghiette semplici. Insieme ad Aria abbiamo deciso di fare delle unghie super abbinate al mio vestito che sarà pieno di perle e brillantini. Per cui per prima cosa siamo andati a smontare la vecchia struttura e abbiamo accorciato tutte le mie unghie naturali. Per poi procedere a fare la ricostruzione da capo. Abbiamo scelto una lunghezza 3 e siamo andati a fare un primo allungamento con un gel trasparente. Per poi costruire con un altro gel color nude. Una bella bombatura che funge da muretto per tutti i brillantini che metteremo sul lavoro. Una volta terminata la struttura, la base di questo capolavoro, con un pennellino super fino e uno smalto bianco, abbiamo ricreato una sorta di friend sullo scalino che si era appunto venuto a creare tra la bombatura e la ricostruzione. Una volta sfumato per bene dopo aver applicato un gel trasparente, è andato ad applicare i primi brillantini che sono quelli più grandi. Abbiamo scelto il bianco e l'argento proprio per abbinarli al mio vestito. Terminata l'applicazione dei brillantini più grandi, con una pioggia di questi micro brillantini bianchi e una tempesta di glitter argento super luminosi, abbiamo interamente ricoperto la parte trasparente. Abbiamo nuovamente catalizzato sotto la lampada per farli attaccare bene e poi eliminato l'eccesso con un pennellino. Terminiamo con una copertura in gel trasparente e una bella limata. Vi ho postato il risultato di qua, fatemi assolutamente sapere cosa ne pensate nei commenti.